America ha chiuso da una ventina di minuti oggi toccava al Fed stasera ha parlato Jerome Powell e vediamo quello che è successo da questo grafico questo è il grafico intraday del rendimento del decennale americano questa è tutta la giornata fino alle 20 ore nostre circa e appena ha cominciato a parlare Powell si è capito che tutto quello che si diceva tutto quello che era trapelato dalle minute dei meeting precedenti come intenzioni sta diventando policy cioè sono provvedimenti che la Fed intende prendere quindi ha mantenuto per il momento la Fed ha mantenuto per il momento i tassi a breve stabili invariati ma ha segnalato l'intenzione di alzarli già a partire da marzo poi ha detto poi tutta una serie di cose che fa capire che anche il QE finirà più presto del previsto cominceranno ad alleggerire il balance sheet non rinnovando i titoli in scadenza tutta una serie di provvedimenti che comunque fondamentalmente dicono politica monetaria diventa più restrittiva quindi al mercato verrà a mancare questo supporto verrà a mancare il supporto della politica fiscale risultato quindi come abbiamo visto l'intraday sale il rendimento del decennale questo il grafico e si completa questo enorme cap enendolo adesso questo è un grafico daily del decennale che abbiamo visto prima in intraday questi sono i minimi di marzo 2020 giusto per capire dove ci troviamo dopo di che ha strisciato sul fondo per diversi mesi risalita fino a maggio del 2021 pullback quindi formazione guardate qui c'è un testespalla rialzista che forma la maniglia del cap enendolo quindi della tazza questa è una figura di reversal di ampia scala quindi il raggiungimento del 2 per cento a questo punto dal punto di vista tecnico puramente tecnico il minimo sindacale come si suol dire poi la sfera di cristallo ovviamente non ce l'abbiamo tutto può succedere però la situazione tecnica per il momento è questa quindi una volta che appunto con le dichiarazioni di powell e i dubbi diciamo sono sono svaniti quei pochi dubbi rimasti è partito il giochetto degli algoritmi quindi il primo il nasdaq il nasdaq che guadagnava credo quasi il tre per cento a un certo punto oggi è andato a finire a meno zero quattro chiude a 344 nel dopo segna 343 perché nel frattempo tesla perdeva il 5 per cento dopo l'annuncio dei degli earning quindi molta molta volatilità anche lì tesla con il suo trilione chiaramente pesa sul nasdaq quindi vedete qua post 343 77 questo è il l'etf tripla cure vediamo anche qui la situazione un po più da lontano questo è il grafico daily un po compresso per far vedere come c'è stato appunto il sell off delle ultime due settimane è stata bucata la media 200 in media in modo violento ancora oggi eravamo qui a flertare con questo livello di 351 si è rivelato un rimbalzo che rimbalzo fra ieri e oggi stamattina e poi adesso i prezzi hanno tutta l'intenzione come minimo di andare a ritestare apriamo ecco vediamo la candela di oggi questo era l'ammerone di due giorni fa ieri candela inside oggi tentativo di uscire dall'hammer verso l'alto fallito siamo rientrati a metà quindi non c'è da meravigliarsi se qui andremo a vedere il test almeno nel breve il test della base dell'hammer quindi non sappiamo in realtà se viste le condizioni di eccesso una fase laterale o di rimbalzo possa comunque avvenire perché non è detto ricordiamoci sempre che quello che accade immediatamente dopo le unioni della fed molto spesso nel giro di 1 2 giorni poi dopo il mercato prende anche una direzione diversa qui siamo in una situazione di eccesso di breve che chiamava sotto molti aspetti almeno un rimbalzo almeno un ritest delle resiste dei vecchi supporti diventati resistenze quindi al di là del 350 che comunque oggi c'è stato il test di 350 ma anche la media 200 che un po' più su niente di che ma dal punto di vista tecnico ci stava anche perché vedevamo appunto il dmi negativo che cominciava a contrarsi quindi allora la faccio breve nel brevissimo dicevamo possibile un ritest della base dell'hammer ricordiamoci sempre che il target successivo qui a 3 25 che è pari a 2 punto 618 di fibonacci di questo 1 2 che è stato praticamente la molla che ha fatto che si è poi sprigio e poi scattata la rottura di 3 e 80 questo è una specie di appunto meccanismo di compressione energia che si accumula e poi si scarica o da una parte o dall'altra e quando si scarica verso il basso generalmente è molto molto più veloce e violento il movimento è stato accompagnato da volumi c'è stato il picco di volumi e una figura di arami che indica una frenata in effetti la frenata c'è stata perché poi comunque anche oggi rispetto a ieri siamo siamo chiudendo quasi invariati questo è sempre il nasdaq no e siamo a metà del range di due giorni fa quindi questo è il quadro tecnico ci possiamo attendere il test di breve qui e dopo di che valutiamo un attimo domani poi quale può essere lo sviluppo ulteriore e quindi il resto degli indici inutile ve lo faccio vedere per adesso nella stessa situazione quindi siamo erano tutti partiti bene stamattina tentando di rompere verso l'alto la la candela di due giorni fa e sono tutti rientrati all'interno del range e l'altro riflesso condizionato ogni volta che si muove il rendimento del decennale e sull'oro e sull'argento l'oro segna meno 169 e va giù di 31 dollari rimane comunque all'interno del canale però ogni volta che ci sono questi e queste turbolenze sui tassi poi abbiamo visto anche nel corso degli ultimi mesi questi candeloni neri che sono quasi appunto come dicevo un riflesso condizionato un quasi pavloviano cioè il fatto che si alza il rendimento del decennale a prescindere dal contesto generale di inflazione che comunque depone a favore dei preziosi in ogni caso non lo so se sono gli algoritmi o quant'altro l'oro ci fa questa sparata di 30 dollari ogni volta verso verso il basso questa è già la terza volta che succede in questi mesi stessa cosa l'argento che comunque ancorato a entrambi dal punto di vista tecnico hanno cambiato l'oro in una struttura positiva già e anche sopra la media 200 l'argento conferma per il momento comunque di aver cambiato la struttura di breve con la volatilità stop line che è diventata gialla molto bene invece il palladio che abbiamo cominciato ad analizzare la settimana scorsa gli abbiamo portato bene avevamo detto target 23 raggiunto oggi con pullback sul finile un po di profit taking era un target evidentemente dove molti poi hanno preso beneficio dopo il rally imponente degli ulti dell'ultima settimana il platino rimane più o meno lì 0 5 con una shooting star fatta sulla media 200 per il momento la media 200 resta un livello di resistenza importante chiuderei la panoramica per il momento con il petrolio oggi più due 23 e più 2 23 e cifra tonda 90 è chiaro che è un target facile il Brent lo ha già toccato il VTI che è quello che vediamo è alle prese con il massimo relativo di qualche giorno fa da superare 87 e comunque come vi dicevo anche l'altro giorno questo si è rivelato si è confermato per il momento un flag di continuazione vediamo se questo test verrà superato però sopra la strada è abbastanza libera per il momento non vediamo principali figure importanti di reversal per quello che riguarda il petrolio però questo è un ulteriore fattore di stress per l'azionario ricordiamo ricordiamolo sempre perché comunque abbiamo pressi dell'energia molto alti che impattano sull'inflazione e sui costi di produzione delle aziende veniamo alle richieste perché abbiamo un po' di arretrato dai giorni scorsi un amico chiedeva di antero resources o poi nei prossimi giorni chiaramente ora andiamo verso il fine settimana giovedì venerdì vedremo volatilità e chiudo il discorso sulla fed dicendo che ovviamente non finisce con stasera continuate a seguire perché fino a venerdì qui ne vedremo delle belle secondo me quindi antero resources dicevo è un'impostazione positiva oggi una shooting star certo ha risentito della fase di debolezza del mercato generale però come vedete l'impostazione è di forza relativa rispetto agli indici qui siamo abbondantemente sopra la media 200 una fase di consolidamento un titolo che evita di muoversi a strappi violenti avanza poi si muove lateralmente si ricongiunge con le medie e tenta di ripartire anche la struttura di breve e positiva la volatilità di stop line ha fatto da supporto dopo essere sta dopo aver cambiato colore quindi io direi all'amico occhio a 16 area 16 molto importante da non violare a ribasso però l'impostazione per il momento rimane inalterata diverso il discorso per questo intra cellular therapies quindi sono titoli tecnologici settore medico avanzato qui il mercato non sa dove il valore ecco direi l'amico quando comincia a vedere questi salti a gap con picchi di volumi che poi si contraggono che poi riparte verso su che poi ritorna verso giù cioè qui il mercato non sa dove il valore di questa azione in questo momento quindi l'analisi tecnica qui lascia il tempo che trova perché poi dall'altro essendo un titolo a non è non abbondante liquidità soffre di questi strappi e quindi per il momento quello che possiamo dire è che questo livello di resistenza di area 45 non possiamo considerarlo ancora completamente superato fino a quando un test lo validerà come supporto per il momento viene superato in su e in giù con tantissima volatilità e quindi non ci dice altro io direi attenzione a 45 un rientro sotto 45 ci va ci andrà molto probabilmente a portare a te ai testi tutti tutti gli altri livelli importanti più in basso richiesta su adp che oggi ha pubblicato i dati sulla trimestrale dati apparentemente buoni quindi l'amico chiede come mai con i dati buoni facciamo meno sei all'epoca meno sei abbiamo finito a meno nove con l'espansione verso il basso e picco di volumi ecco allora direi l'amico che in queste cose qua accadono spesso cioè i dati apparentemente buoni perché i dati ricordiamoci sempre sono i dati del trimestre trascorso quindi il mercato poi se durante la conferenza stampa di presentazione dei dati oppure se dura nella relazione che accompagna la la presentazione dei dati ci dovessero essere degli elementi che fanno presagire qualcosa di diverso per il futuro il mercato lo sconta subito quindi anche se tu mi hai fatto il record degli earning per il quarto il quarto trimestre 2021 è storia ok quindi se ci sono poi delle novità particolari quindi bisognerebbe vedere dire all'amico di che dovrebbe andare se vuole capire perché di andare a studiare meglio a leggere meglio quello che è stato detto o scritto nel corso della presentazione dei dati dal punto di vista tecnico qua il segnale inequivocabile ha saltato a gap la media 200 al ribasso si è allungato verso giù un'espansione notevole meno 9 picco di volumi qua dubbi non ce ne sono è andato dritto alla vecchia fascia di resistenza diventato supporto a 195 ci ha chiuso quasi al tic quindi ora la partita si gioca qua buca 195 andiamo ancora più giù però è ovvio che qui ora siamo in una situazione di eccesso di breve qui qualche ben informato sapeva prima forse quello che sarebbe successo generalmente questi movimenti sono movimenti di esaurimento di breve almeno del movimento quindi è un sell off con una capitolazione dei long che posizioni che vengono liquidate al meglio generalmente questo quello che sottende a figure di questo tipo non c'è da meravigliarsi di un eventuale rimbalzo presto o tardi che possa andare a testare le resistenze che adesso passano a 208 chiuderei con ferrari ferrari e sta andando al test della vecchia area di resistenza 195 che dovrebbe fare da supporto finora lo sta facendo l'ha sentita abbastanza bene anche durante il sell off di due giorni fa non è andato al di sotto di questi livelli dove passa anche la media 200 quindi l'amico una bella linea qui 192 100 direi 193 195 qui sotto il quadro tecnico cambia quadro tecnico che per il momento resta positivo nonostante qui comunque ci sia stato un eccesso speculativo vi ricordate diciamo sempre che quando ci sono questi movimenti verticali di cominciare a dubitare e comunque stare attenti a inseguire questi movimenti perché si rischia di rimanere col cerino in mano ferrari poi dopo questo movimento parabolico ha realizzato un test spalla ribassista rotto a 218 target raggiunto va bene direi è tutto per oggi ci diamo ci diamo appuntamento a domani continuate a seguire grazie per il supporto che date ai canali sia su trading view che su youtube tutto sempre molto apprezzato grazie per l'attenzione buona serata appuntamento domani grazie a tutti